Si trovava a quasi 1800 metri di altitudine il bivacco Lubrano, costruito dall'Associazione Romana Urri per scopi di ricerca, ma in una zona molto strategica del Gran Sasso, nel vallone della Fornaca, sul versante sud di Monte Prena, importante anche per i soccorsi e i recuperi di escursionisti. Oggi il bivacco non esiste più, perché nel 1990 fu spazzato via da una tempesta di vento. La struttura era dedicata a Giorgio Lubrano, eroe della guerra. Oggi i corridori del cielo, col presidente Paolo Boccabella, hanno deciso di ricostruirlo, proprio in virtù della sua posizione di comune accordo con il soccorso alpino e in accordo anche con il comune di Calascio. Una posizione strategica, dicevamo, quella del bivacco, che sarà intitolato alla memoria del dottor Pier Giorgio Desiati, medico del soccorso alpino e speleologico dell'Aquila. Oggi è stato deciso appunto di ricostruirlo e di intitolarlo al nostro Pier Giorgio Desiati, che è stato il medico del soccorso alpino e speleologico dell'Aquila. Per cui, animati da questo spirito, siamo messi d'accordo con il comune di Calascio, il quale ha sposato questo progetto e ha portato in Consiglio Comunale, approvandolo il 28 novembre dell'ultimo scorso, questa realizzazione di questo bivacco. Diventerà una base logistica dunque per i soccorsi, ma sarà aperto anche alla gente in una sua parte. Sarà costruito all'interno dell'azienda aquilana Icra. Per la ricostruzione, che costerà tra i 50 e i 60 mila euro, è stata aperta una sottoscrizione. Aiuterà nell'opera anche la fondazione Carispac. È stata firmata intanto la convenzione con il comune di Calascio per la realizzazione dell'opera. Ovviamente questo è un progetto ambizioso, perché si tratta di sostenere una spesa di circa 50-60 mila euro, che naturalmente verrà fatta, sulla quale verrà fatta una sottoscrizione, affinché si possa realizzare quest'opera. Naturalmente tutta la mano d'opera, tutto l'intervento, tutto quello che ne consegue, saranno degli amici che offriranno questa collaborazione, per cui si invitano tutte le persone di buona volontà che possono fare una sottoscrizione affinché quest'opera venga realizzata.